L'incidente nella serata di lunedì 3 giugno intorno alle 20, in corso Torino a Rivarolo Canavese, una profiesta condotta da una donna di 35 anni, originaria della Bosnia-Herzegovina e residente a San Giusto Canavese, con a bordo un figlio, è uscita di strada andando a schiantarsi contro le gamiere e sorretta da un'impalcatura posta a protezione dell'area Exalp. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, l'ammulanza della Croce Rossa di Castellamonte e i volontari di soccorso di Caluso. Sia la madre che il figlio sono stati subito soccorsi e affidati alle cure dei sanitari, feriti ma non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le lamiere che si erano piegate ingombrando la sede stradale. Sia la madre che il figlio sono stati subito soccorsi e affidati alle cure dei sanitari, feriti ma non in pericolo di solito. Grazie. Grazie.